Continua il tentativo della Giunta Basile di far quadrare i conti del Comune di Scalea. Dopo la vicenda Sorical si cerca un accordo con la TCSPA. La società alto di Reno Cosentino, che ha svolto servizi di raccolta dei rifiuti per il Comune dal 2001 al 2010, potrebbe a breve firmare un contratto di transazione proposto dalla Giunta Basile. Il debito del Comune nei confronti della ditta si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma la questione potrebbe risolversi con un risparmio per lente di poco più di 1.148.000 euro. In pratica la città di Torre Talao, conti alla mano, è disposta a pagare 3.055.000 euro in 180 rate da circa 17.000 euro, debito che si estinguerebbe completamente tra 15 anni. Nel contratto di transazione, infatti, figurano una serie di decurtazioni dal debito iniziale. Il Comune di Scalea propone all'ATC di rinunciare alla somma di 610.000 euro relativa al periodo 2002-2006, agli interessi e le fatture emesse al 2007-2011 e di riconoscere lo sconto delle somme già pagate. Inoltre, la stessa proposta prevede l'addebito alla società delle spese che lente dovrà affrontare per le consulenze legali, poco più di 12.000 euro. L'Alto Tirreno Cosentino dovrebbe ancora rinunciare all'incentivo per la raccolta differenziata assegnato dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza di Fiuti, circa 71.000 euro. Infine, una minima parte del risanamento del debito spetta alla Regione Calabria, poco più di 121.000 euro, che la società non dovrà pretendere dalle casse comunali. Un'offerta vantaggiosa per l'ente alto tirrenico che, dal canto suo, si impegna a pagare ulteriori atti di pignoramento e decreti ingiuntivi presentati da terzi creditori, purché siano poi scontati dalle rate mensili. Infine, c'è anche la possibilità che sia il Comune a pagare le spettanze arretrate per tutti quei dipendenti in forza alla ditta fino al 31 dicembre del 2010. Anche in questo caso le cifre sarebbero decurtate dalle rate mensili. Nel giro di due settimane potrebbe arrivare la firma del contratto, che chiuderebbe così un altro difficile capitolo del bilancio comunale.